buongiorno oggi parliamo di un'altra storia interessante un'altra biografia la biografia di erode il più grande dei re giudei dopo naturalmente davide e salomone gode di cattiva fama salomone molti erode scusate anche salomone ha avuto il suo ecclissarsi nella vecchiaia ma erode gode di cattiva fama perché mentre si invecchiava si dice arrivarono da lui tre mazi che profetizzarono la nascita del re dei giudei nel suo regno e visto che non stava nascendo dalle sue 10 mogli nessun altro figlio lui capì che non era della sua stirpe e progettò di ucciderlo naturalmente questa è una storia che non sappiamo se vera o falsa ma profetizie del genere c'erano a bizzeffe nel mondo antico cioè profeti e falsi profeti che avevano la fortuna di profetizzare il vero c'erano profeti che profetizzarono il falso c'erano nel mescuglio tutto si fonde chi è erode erode forse è un mezzo giudeo viene definito lui suo padre è un idumeo e sua madre cipro è una navatea sposa 10 donne come ho detto 10 donne di estrazione probabilmente diversa non probabilmente scelte solo per la bellezza ma anche per il fattore politico la prima è doris che gli dà il primo figlio antipatro come suo padre come il padre di erode e la seconda è mariamme della stirpe di asmonei chi sono gli asmonei gli asmonei vengono vengono anche definiti maccabei in origine sono coloro maccabe significa martello sono coloro che lottano per l'indipendenza del popolo ebraico da dei siriani dei seduzidi e dei tolomei anche cioè tentano di creare un governo autonomo all'inizio ottengono le cariche di sommo sacerdote che è una carica vita che loro riescono a far riempire di potere politico poi aggiungono alla carica di sommo sacerdote la carica di re antipatro serve un asmoneo i carino secondo si diventa re e sommi sacerdoti per linea maschile ma ricordiamo una cosa c'è stata una regina asmonea prima di carino che era alessandra la sua madre quindi anche le donne potevano tentare di diventare regine non potevano diventare sommo sacerdote perché il sacerdossio come sappiamo non solo nella chiesa cattolica è privideso comunque dei maschi erode riesce a far fuori gli asmonei che sono in lotta fra di loro il carno contro suo fratello mi sembra aristobullo poi comunque dai due fanno una riconsigliazione e sposano i loro figli e da alessandra e alessandro nascono mariamme e aristobullo fratello di mariamme io mi concentro forse più sulla famiglia che su altro perché è interessante la storia dicevamo mariamme e aristobullo alessandra dopo che erode ottiene il titolo reale con giura per diventare lei regina al suo posto si dice si dice perché lo dice flavio giuseppe cioè un ebreo molto posteriore il quale ha scritto antichità giudaiche e la guerra giudaica in queste due opere le donne in genere non fanno buona figura quindi non la fa né alessandria né cleopatra che è comunque interviene nella vita giovanile di erode né lo fa la sorella di erode sarò meno alessandra tenta una carta non sapendo come sbarazzarsi di erode manda il ritratto dei suoi figli ricordiamo che la legge ebraica proibisce di fare il ritratto di cose viventi di animali o esseri viventi manda il ritratto dei suoi figli che sono bellissimi a antonio ma sembrerebbe che li mandi tramite cleopatra o comunque che cleopatra sappia la cosa cleopatra che ha paura che questi che mariamme giovanissima attiri più di lei l'appetito sessuale di marco antonio o aristobullo perché ricordiamo che anche se marco antonio non ci sono molte storie non mi ricordo le storie con maschi a differenza di cesare comunque marco antonio è dipinto da flavio giuseppe come un assetenato erotico che per questo è sozzogato da cleopatra e anche da altre fonti romane successive alla lotta fra antonio e ottaviano comunque manda il ritratto dei suoi figli due figli bellissimi mariamme promessa sposa a erode aristobullo 16 anni ragazzo bellissimo e se questi ragazzi attirano l'attenzione di antonio pensa erode non potrà liberarsi farne tenerselo come protettore e rischia di perdere il trono quindi aristobullo in primo luogo lo nomina sommo sacerdote aveva nominato un altro sommo sacerdote ma questo è scomparso forse morto forse no ma nomina aristobullo sommo sacerdote perché la legge ebraica proibisce il sommo sacerdote di lasciare la terra degli ebrei purtroppo questo non basta non si fii anche perché il popolo dà manifestazioni di gioia nei confronti di aristobullo erode si inzerosisce e lo fa ammazzare in una piscina soffocare mentre fingono di fare dei giochi in acqua si dice che erode farà sterminare quasi tutti gli asmonei perché gli asmonei sono comunque una stirpe sacerdotale e regale mentre lui non può vantare le stesse cose magari forse sì i suoi antenati potrebbero essere stati capi degli umanei per tempi immemori ma erode governa sui zudei che sono la popolazione principale della zona e i zudei non vedono di buon occhio i mezzi zudei semi zudei quelli che insomma non possono vantare un sangue puro come quello appunto di diesmonei o di alcune famiglie geronimitane cioè di gesurusalemme e via dicendo ricordiamo che nella civiltà antica il sangue conta conterà anche in altre epoche conta tutt'oggi tutto sommato comunque se il figlio di un beccaio può essere re di parisi perché non può essere re di gerusalemme il figlio di un capo importante antipatro infatti era uno dei migliori grandi consiglieri di ircano secondo e capo dell'esercito di ircano secondo quindi un ruolo importante anche se non era zudeo sappiamo che erode viene accusato di aver ucciso gli asmonei e aver impoverito ucciso gran parte delle famiglie più importanti del popolo zudaico ma storia naturale perché loro si ribellano questi qui complottano e quando erode vedrà un presunto complotto nei suoi confronti agirà sempre con cattiveria spesso verrà accusato di questi complotti di aver di aver svelato questi complotti o ordito complotti contro altri la sorella di erode salome la quale comunque verrà ricordata nel suo testamento salome ha più mariti ma riesce sempre a sopravvivere e anzi riesce a sbarazzarsene a volte con l'aiuto del fratello appunto accusandoli di crimini politici contro di lui quindi il ruolo delle donne è importante abbiamo visto alessandra che trama per diventare l'esilio dei zudei e trovare la morte abbiamo visto solo me che trama comunque per diventare un'ombra del potere dietro il fratello comunque dicevamo morirà salome morirà mariamme morirà strobulo per colpa di erode morirà alessandra moriranno i figli di mariamme i quali sembrerebbe avessero comportato contro il padre una volta eliminati questi figli di mariamme scomparirà inizieranno a diffondersi i voti contro altri patro figli di doris ed erode il quale sembrerebbe aver complottato contro i fratelli che probabilmente anche se lui era primo zento l'avrebbero superato nel arrivare al regno o comunque anche se fosse riuscito a essere lui il re di erode avrebbero trovato dei fedeli pronti a rivoltarsi contro di lui perché loro comunque erano di sangue reale e lui è antipatro figlio comunque di un idomeo che erode che è il re ma che gli ebrei non lo vogliono e di questa doris di cui io non so nulla in particolare morirà anche antipatro grazie a un complotto di salomè antipatro è incarcerato probabilmente erode in quel momento è morto fanno giustiziare antipatro e dicono che è stato il re a farlo prima di morire farlo giustiziare verrà anche contraffatto il testamento nella corte di erode infatti letter e materiale gira in continuazione accuse di falsi di essere falsari questo gruppo quel gruppo ricordiamo che oltre gli ebrei sono altri gruppi ogni moglie al suo gruppo familiare che vuole difendere così ci sarà la divisione poi del regno di giudea con un etnos che è archelao e con due trattarchi altri due fratelli minori di questo archelao che sono filippo e erode antipa comunque dicevamo probabilmente erode è morto nel 4 avanti cristo quindi prima della nascita presunta di cristo e non può essere accusato di aver sterminato i bambini di betlemme che sia stato uno dei suoi parenti perché lui è accusato di ciò perché lui nel ricordo di ebrei comunque un pagano un principe crudele e per quanto abbia fatto delle cose buone l'ha fatto sempre con per orgoglio per ambizione e non per il bene del popolo questa è l'accusa che muovono gli ebrei a erode e così sembrerebbe in parte vero agli storici moderni soprattutto l'accusa di aver creato comunque templi a dei diversi fuori di gerusalemme ma ricordiamo che anche il restauratore del tempio quello che lo ingrandisce quello che lo riporta alla gloria forse non uguale ma comunque alla gloria del tempio di salomone per la gloria del tempio di salomone